Il 24 maggio, i cattolici in Cina pregheranno con devozione alla Beata Vergine Maria, aiuto dei cristiani, venerata nel santuario di Shishan, a Shanghai. Nella statua che sovrasta il santuario, Maria sorregge in alto il suo Figlio, presentandolo al mondo con le braccia spalancate in gesto di amore e di misericordia. Anche noi chiederemo a Maria di aiutare i cattolici in Cina ad essere sempre testimoni credibili di questo amore misericordioso in mezzo al loro popolo e a vivere spiritualmente uniti alla roccia di Pietro su cui è costruita la Chiesa.